San Giovanni Bosco nacque da una madre esemplare, si chiamava Margherita Occhiena. Il suo processo di canonizzazione si aprì nel 1995 ed è stata dichiarata venerabile nel 2006, nel 150esimo anniversario del suo dies natalis. Nacque a Capriglio, in provincia di Asti, il 1 aprile 1788 e nello stesso giorno fu battezzata nella parrocchia del paese, dove rimase fino al giorno del suo matrimonio con Francesco Bosco. Conoscente di famiglia, vedovo e padre di un figlio. Le nozze furono celebrate a Capriglio, il 6 giugno 1812. La coppia si stabilì ai Becchi, frazione di Castelnuovo d'Asti, attuale Castelnuovo Don Bosco, dove il marito lavorava come mezzadro. Con il lavoro e il risparmio, la famiglia Bosco riuscì ad acquistare alcuni campi, una striscia di vigna, un piccolo immobile che Francesco trasformò in stalla per due buoi e una mucca. Nel 1813 nacque Giuseppe, il primo figlio di Margherita e Francesco, e il 16 agosto 1815 Giovanni, che diventerà Don Giovanni Bosco. Trascorsero due anni e il marito morì. Lascerà scritto nelle memorie Don Bosco stesso. Non avevo ancora due anni quando Dio misericordioso ci colpì con una grave sventura. Mio papà era nel pieno delle forze, nel fiore degli anni, ed era impegnato nel darci una buona educazione cristiana. Un giorno, tornando dal lavoro madido di sudore, scese senza pensarci nella cantina sotterranea e fredda. Fu assalito da una febbre violenta, sintomo di una grave polmonite. In pochi giorni la malattia lo stroncò. Nelle ultime ore ricevette i santi sacramenti e raccomandò a mia madre di avere fiducia in Dio. Cessò di vivere a 34 anni. Era il 12 maggio 1817. Margherita rimase sola, a 29 anni, nel prendere tutta la responsabilità della famiglia, in un momento in cui il territorio era colpito da una drammatica carestia, tanto che il governatore di Genova scriveva al re di Sardegna «La fame va distruggendo intere famiglie». Si prese in carico Antonio, il primo figlio del consorte, nato nel 1803. I suoi due figli, la suocera e due braccianti. Donna di grande fende, con un altissimo senso del dovere, temprata dai dolori e dalla fatica, fiera della sua povertà, insegnò ai suoi figli a pregare e a compiere la volontà di Dio in ogni circostanza. Arate riuscì a saldare il conto con lo speziale di Castelnuovo, Giannella, e il notaio Montalenti, per il testamento. Passato il peggio, le fu suggerito di risposarsi, ma lei non ci pensò affatto. Arava, seminava, falciava il grano, lo trebbiava e riponeva il raccolto del granaio. Prendeva gli uomini a giornata e li stancava tutti con il suo esempio. Trasmise ai bambini l'amore per il creatore e fu per loro la prima catechista. In una notte stellata, uscendo all'aperto, disse loro, «E' Dio che ha creato il mondo e ha messo lassù tante stelle. Se è così bello il firmamento, che cosa sarà del paradiso?» In paradiso Don Bosco volle condurre più anime possibile. Margherita si serviva della natura per spiegare i segreti della vita e l'importanza di non peccare. Quando arrivava la bella stagione, di fronte alla campagna o ad un prato sparso di fiori, oppure a sorgere del sole o un tramonto, decantava le meraviglie del creato. Mentre, quando arrivavano temporali e tuoni, esortava a non peccare e, commentando i danni procurati dalla grande dei suoi raccolti, diceva, «Il Signore ce li aveva dati, il Signore ce li ha tolti, egli nel padrone. Tutto per il meglio, ma sappiate che per i cattivi sono castighi, e con Dio non si burla». Fu lei ad insegnare a Don Bosco a stare sempre alla presenza di Dio. «Dio ti vede», diceva spesso, «ad amare e coltivare le verità di fede, la capacità di sapere affrontare la durezza della vita, nella sofferenza e nella povertà, il valore della laboriosità, il senso del dovere. Tutti i valori che la terra subalpina possedeva nel suo bagaglio religioso e culturale, ma che ai vecchi, dove si trovava la casa e la proprietà dei bosco, si vivevano in massimo grado. Margherita fu esempio di quotidianità vissuta nel Vangelo, dimostrando sempre la sua infaticabile generosità, servendo, curando e assistendo tutti coloro che il Signore le affidò, dal marito ai figli e la suocera agli infelici, che alla sua porta bussavano fino ai tanti monelli di Torino. Tuttavia, il suo cuore aveva indubbiamente riservato uno spazio più grande per il suo Giovannino, che seguì con un amore immenso, ed una dedizione straordinaria, e d'altro canto il figlio aveva un rispetto di un amore per la madre difficilmente misurabile per la sua ampiezza e la sua profondità. La vita aspra, fatta di molteplici privazioni, permetteranno a Don Bosco di affrontare enormi prove e superare ostacoli altissimi. La tempra e la forza, sia fisiche che morali, saranno frutto anche dell'educazione materna. Margherita sapeva trarre insegnamento da ogni cosa e consegnarlo ai figli. È proprio da sua madre che Giovanni imparò a ricevere ogni realtà, buona o triste che fosse, come proveniente dalla mano del Signore. Don Bosco sarà sempre grato a mamma Margherita, ancora oggi chiamata così, confidenzialmente, dai salesiani, grato per l'educazione ricevuta e per i sacrifici sostenuti per permettergli di studiare. Dovete compiere anche scelte difficili e drastiche, in particolare quando scesse di allontanare Giovanni da casa, poiché, essendo quest'ultimo portato alla cultura, non volle creare disordine in famiglia a motivo dell'ostilità e dell'invidia che Antonio provava per il fratellastro e allo stesso tempo incoraggiò e sostenne l'avvenire del secondo genito. Con la sua determinazione recise con il suo passato, lasciando poi l'amata terra del Monferrato e gli affetti familiari che si accrebbero con il tempo, infatti divenne nonna di nove nipoti, al fine di seguire Don Bosco, bisognoso di aiuto, allora quando, a Torino, si apprestò ad aprire l'oratorio di Valdocco. Saggezza, prudenza, coraggio, fortezza accompagnarono costantemente l'esistenza di mamma Margherita che guardò sempre al bene di ogni membro della sua famiglia e nel sacrificio trovò la sua piena realizzazione come figlia di Dio, come sposa e come madre. Quando Giovanni confidò la sua vocazione religiosa al paroco, questi lo comunicò a sua madre ed ella si rivolse al figlio con queste parole «Io voglio solamente che tu esamini attentamente il passo che vuoi fare e poi segui la tua vocazione senza guardare ad alcuno. La prima cosa è la salvezza della tua anima. Il paroco voleva che io ti dissuadessi da questa decisione in vista del bisogno che potrei avere in avvenire del tuo aiuto. Ma io dico, in queste cose non centro perché Dio è prima di tutto. Non prenderti fastidio per me. Io da te voglio niente, niente aspetto da te. Ritieni bene. Sono nata in povertà, sono vissuta in povertà, voglio morire in povertà. Anzi, te lo protesto. Se ti decidessi per lo stato di prete secolare e per sventura diventassi ricco, io non verrò neppure a farti una sola visita. Anzi, non porrò mai piedi in casa tua. Ricordalo bene». Don Giulio Barberis, uno dei primi sacerdoti formati da Don Bosco, depose sotto giuramento. Mamma Margherita disse queste parole con tale aria di autorità che una volta Don Bosco mi disse che a settant'anni sentiva ancora viva emozione nel pensare a quelle parole di sua madre. Sabato 5 giugno 1841, Giovanni Bosco è ordinato sacerdote dall'arcivescovo di Torino, Luigi Franzoni, incarcerato nel 1850 e poi esiliato a Lione perché nemico dei liberali e dei massoni. Il giovedì seguente, festa del Corpus Domini, Don Bosco celebra la messa al suo paese. Le campane suonano a festa. La gente è ammucchiata nella grande chiesa parocchiale per vedere il figlio di Margherita che è diventato prete. La sera la madre gli dice Sei prete, dici la messa. Da qui avanti sei dunque più vicino a Gesù. Ricordati però che cominciare a dir messa vuol dire cominciare a soffrire. Non te ne accorgerai subito ma a poco a poco vedrai che tua madre ti ha detto la verità. Sono sicura che tutti i giorni pregherai per me sia ancora io viva o sia già morta. Ciò mi basta. Tu da qui innanzi pensa solamente alla salvezza delle anime e non prenderti nessun pensiero di me. Alla fine dell'ottobre del 1841 su consiglio di Don Giuseppe Caffasso Don Bosco scende a Torino e inizia lentamente il suo oratorio. Ma solo nella Pasqua del 1846 il 12 aprile troverà la sede stabile con la tettoia Pinardi per i suoi ragazzi in zona Valdocco. In luglio però arriva la notizia che Don Bosco cade gravemente malato. Perciò Margherita parte immediatamente per Torino. Il medico le comunica la diagnosi infiammazione polmonare violenta con sbocchi di sangue. Lei tira fuori la corona del rosario e inizia a pregare e con l'altra mano asciuga con un fazzoletto il sudore del figlio. La voce che Don Bosco potrebbe morire si sparge nell'oratorio e fuori. Così mamma Margherita vede arrivare tanti e tanti ragazzi poveri. C'è chi piange, chi prega, chi fa delle promesse, chi fa tutte e tre le cose insieme. Don Bosco sente i suoi figli chiedere a sua madre di aprire le porte e la sua camera si riempie. Scriverà il santo nelle memorie. Era un sabato sera e si credeva a quella notte essere l'ultima di mia vita. L'invece presi sonno. Quando mi svegliai ero fuori pericolo. Mamma Margherita fa ritorno a casa. Tuttavia Don Bosco ha bisogno di lei e solo a dover gestire tutto. Così propone alla madre di trasferirsi a Torino. Margherita all'età di 58 anni non si sentiva di lasciare Giuseppe, la nuora e i nipoti. Ma se tal cosa possa piacere al Signore io sono pronta a seguirti. Riempì un canestro di biancheria e di altri oggetti mentre Don Bosco prese il breviario, il messale, alcuni libri e quaderni. Lascia scritto nelle memorie. Ella capì la forza delle mie parole e mi disse «Se Dio vuole, andiamo». Si mettono in cammino insieme e martedì 3 novembre del 1846. Una sera piovosa del maggio del 1847 bussa alla loro porta un ragazzo della Vassesia, tutto bagnato. Margherita gli prepara un letto accanto al fuoco. È il primo ragazzo che ospitano e i ragazzi aumentano. Ma come si può mangiare, pagare l'affitto, provvedere a tanti fanciulli che sempre domandano pane e indumenti? Dai vecchi fanno arrivare un po' di vino, un po' di meliga, fagioli, grano. Per far fronte alle prime spese Don Bosco vende qualche pezzo di campo ed una vigna. La mamma si è fatta portare il suo corredo di sposa che fino ad allora aveva conservato gelosamente. Alcune sue vesti servono per confezionare pianete e con la biancheria si confezionano degli amitti, dei purificatori, rocchetti, camici e tovaglie per l'altare. Alcuni anelli e una piccola collana d'oro servono per acquistare galloni e guarnire i paramenti sacri del figlio. Intanto, i giovani aumentano ancora. Allora Margherita trasforma una porzione del prato in orto che coltiva con cura. Ma un giorno i ragazzi giocando alla guerra lo devastano. Quella sera la mamma di Don Bosco ora anche mamma dell'oratorio che ha 62 anni stanca e demoralizzata mentre sono tutti a letto e lei sta cucendo gli indumenti da giustare sospende il lavoro e chiede al figlio di lasciarla tornare ai vecchi. Non ha più le forze per sostenere tutti quegli impegni dal mattino alla sera. Don Bosco guarda il volto della madre non riesce a parlare fa solo un gesto le indica il crocifisso appeso all'aria. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.